Ciao a tutti, mi chiamo Marcello Rubbi, lavoro da 25 anni in Alleanza Assicurazioni e sono un agente generale. Di scegliere questo lavoro e di non mollare mai. È come la vita, all'inizio è difficile, gattoni, poi incominci a camminare e dopo incominci a correre. E lì ti diverti e incominci a spostare tutti i tuoi limiti. Mi occupo del bene di altre persone, questo lo faccio ogni giorno, clienti e colleghi. Ho una famiglia meravigliosa e le mie due grandi passioni sono sciare e fare snorkeling. Da grande desideravo un macchinone e uno studio in centro. Il primo, l'ho intravisto sin da subito, al primo colloquio, la vera opportunità di crescere e di far carriera. Il secondo motivo è senz'altro legato all'azienda, tra i più importanti e con una chiara visione del business. Questo mi ha dato sin da subito solidità e fiducia. Il terzo motivo è il mercato, 25 anni fa come oggi. Nonostante tutti i cambiamenti e momenti difficili, dal crollo delle torri gemelle alla recente e attuale situazione pandemica, il mercato assicurativo ha saputo dare delle opportunità. Ed Alleanza Assicurazioni è stata capace di saper interpretare il proprio ruolo sociale all'interno di esso. Questo ci ha permesso di lavorare sempre e questa è sicuramente la vera certezza che andavo cercando. C'è anche un quarto motivo, il non doverti imbrare il cartellino, il riconoscimento dei meriti e un'autonomia. Nel mondo dell'assicurazione in generale non saprei. So di certo che in Alleanza Assicurazioni devi essere una persona di valore, devi essere onesta, devi saper costruire delle relazioni con sincero interesse, sia con i clienti che con i colleghi. Contano relativamente, gli aspetti più importanti sono motivazione, attitudini e la voglia di imparare, che costa tanta fatica. Alleanza sta investendo molto per cambiare l'immagine dell'assicuratore, questa figura piena di pregiudizi. E per far questo ho creato uno slogan, molto di più che fare l'assicuratore. Questa è la nostra mission. Per aiutarci abbiamo creato uno stile, uno stile lavorativo, che ci deve contraddistinguere, ed è stile Alleanza. Tutto questo l'ha legato poi con un colore, che è l'arancione, quindi quelli dell'arancione addosso, perché ci vuole forse anche un po' di alchimia per poter creare e modificare i pregiudizi verso una figura che esiste veramente da tantissimi anni, centinaia di anni. E con l'arancione addosso, che è positività ed energia, contiamo di farcela. Assunto, da resto di uno come me, come fareste a fartelo scappare? Assunto, da resto di uno come me, come fareste a fartelo scappare? Assunto, da resto di uno come me, come fareste a fartelo scappare? Assunto, da resto di uno come me, come fareste a fartelo гimbal tanto con un unico di vita.